Quest'anno per la giornata internazionale della donna, Bussar Sizio propone una serata in giallo. Sì, una serata in giallo. Il giallo ricorda un pochino il fiore per eccellenza, la mimosa. E soprattutto il titolo è E non solo, perché non sarà esclusivamente una serata proposta alle donne, ma aperta a tutti, quindi anche ai loro accompagnatori o anche a uomini. Perché? Perché intanto siamo per non la divisione. E quindi chiunque per noi è bell'accetto. Sarà una serata dove valorizzeremo il ruolo della donna, cercheremo di parlare, di riflettere, di condividere insieme quelle che sono state le conquiste fatte in questi anni, cosa c'è ancora da fare. La serata, promossa dall'amministrazione comunale e l'associazione Edera, sarà condotta da Thomas Incontri, con lo spettacolo di magia e illusione di Walter Maffei e il DJ set curato da Rossella Di Pietro. Appuntamento venerdì 8 marzo a partire dalle 20 in sala Probusto.